e rende quindi una marcia in più, nel senso che voi affrontate un po' tutte le tematiche del vivere tematiche formative, di ogni genere di tutto di più, viene da dire sia quelle relative alle capacità piacevoli, giustamente della vostra età e non solo ma poi anche le problematiche, è una scuola che mi fa crescere con consapevolezza e io sono convinta che lascerà dentro l'uno di voi, anche se poi l'uno di voi potrà sviluppare e comunque partirete proprio con una maturità, se viene da questi, da più di testa ma di prima, di seconda, tutti voi, insomma siete fortunati, siete fortunati perché a me è un po' di insegnante che lavora con grande entusiasmo, credendo nell'efficacia di tutte le vostre attività e sempre per andare avanti, per costruire con consapevolezza un modo migliore c'è assolutamente bisogno e voi sarete sicuramente, sei un po' la luce, no? tutte le generazioni, le vostre generazioni, non è solo la luce per il futuro grazie 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 grazie